Nel video di oggi vi voglio parlare di programmi veramente molto interessanti ma con una parola chiave che so che piace a molti di voi, ovvero gratuito. Per quanto riguarda questi programmi sono un po' misti, nel senso non puntano tutti allo stesso obiettivo, non sono tutti dello stesso ambito, ma possono essere utili tutte e quattro a diverse persone. E direi che possiamo anche evitare di perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare a parlare di programmi fantastici, come per esempio OnlyOffice, lo sponsor di questo video. OnlyOffice è un pacchetto di strumenti alternativo alla suite di Office di Microsoft. Infatti questo programma si propone come una suite di produttività per fogli di calcolo, presentazioni e anche ovviamente tutta la parte dedicata al testo. È uno strumento super scalabile, infatti che siate un piccolo privato che deve scrivere la tesi di laurea, che deve lavorare al progetto scolastico, alla grande azienda con decine di dipendenti, hanno soluzioni per tutti scalabilissime e soprattutto basate su un sistema open source, quindi in caso potete anche mettervi a lavorare sul codice direttamente. Quello che è veramente super interessante di OnlyOffice è anche il fatto che per l'utilizzo privato siamo di fronte a un programma completamente gratuito, ma soprattutto molto intuitivo e utilizzabile sia in team che da soli. Il programma è compatibile nativamente con tantissimi formati, tra cui anche quelli proprietari generati dai programmi di Microsoft che ho citato prima, come Excel, Word e tanti altri. A livello software lo potrete utilizzare su Android, iOS, macOS, Linux e anche Windows, con una compatibilità quindi universale tra tutti i dispositivi con cui vogliate lavorare. Ultima chicca, potete anche lavorare ostando il programma su un server privato. Questo grazie anche al team che ogni giorno si impegna per portare grandi novità su questo programma. A breve vi parlerò di qualcosa di aggiuntivo che faranno per la versione 7.2, ma per adesso direi che potete andare al link giù in descrizione e scaricarlo. Ricordatevi, è gratuito per la versione Docs. E dopo aver parlato di questo grandissimo programma che è OnlyOffice, direi che possiamo iniziare con altri grandi programmi. Partiamo per esempio da una chicca che mi ha consigliato un mio redattore, Silenzio, tempo fa, che ringrazio e saluto. Stiamo parlando di PlayNight. PlayNight è un programma open source, incentrato sulla privacy, non stora in alcun modo i vostri dati da nessuna parte se non sul vostro computer in locale, quindi niente distribuzione a terze parti e cose assurde, e serve a fare una cosa che per tanti PC gamer è un crucio quotidiano, ovvero la gestione di tutti i giochi che passano per decine di launcher che siamo costretti a installare ogni giorno. PlayNight cosa fa? È semplicemente un grande raccoglitore di tutti questi launcher, ci permette di vedere tutti i nostri titoli installati sul computer, ma anche quelli in nostro possesso, qualora decidessimo di loggare i nostri account mediante appunto le varie API e sistemi di integrazione all'interno di PlayNight stesso. Non è obbligatorio, potete anche utilizzarlo santo per i programmi installati, ma in generale si può utilizzare in maniera molto scalabile. PlayNight è un servizio molto molto interessante appunto per risolvere questo grande problema che abbiamo noi PC gamer di avere giochi sparsi in giro qua e là. Ci permette di avviare tutti quanti i titoli che riesce a rilevare installati sul nostro sistema e non si occupa soltanto di quelli che sono installati mediante per esempio i launcher classici come Battle.net, Origin, Ubisoft, Steam e compagnia cantante, ma anche tutti quei giochi custom o comunque scaricati da internet che potreste avere. Non vi parlo soltanto di cose relative alla pirateria che non incoraggi in alcun modo, ma vi parlo anche di programmi che per esempio non passano appunto per i maggiori sistemi di distribuzione. Succede spesso per esempio con i developer indie. Io lo utilizzo perché avendo Xbox Game Pass, Battle.net, Steam, Origin e tutto questo tipo di programmi insomma inizia a essere difficoltoso dover andare ogni volta ad aprirne uno singolarmente quando invece posso aprire PlayNight e ho già lì tutti quanti i miei giochi insieme belli, pronti e facili. Posso anche disinstallarli direttamente da lì. Ovviamente ragazzi questa cosa non sostituisce in toto i nostri launcher. In ogni caso dovremo purtroppo installarli appunto per dare accesso a PlayNight o comunque anche senza darglielo semplicemente per installare i titoli. Non è un launcher alternativo completo, però è uno strumento che secondo me è molto utile per l'organizzazione soprattutto se magari avete già 10-20 giochi installati sul vostro computer. Per il secondo programma vi voglio raccontare prima un aneddoto che riguarda questo programma. Se seguite un pochettino di politica, social e cose così probabilmente nel 2016 vi ricorderete che la politica americana Hillary Clinton è stata vittima di uno scandalo riguardo alcune mail, non metto voce sul contenuto delle mail, insomma che ha voluto cancellare con molta premura addirittura in modo che nemmeno Dio potesse vederle. Così ha riportato il suo team tecnico. Ora, per eliminare tutte queste mail, il team tecnico, appunto il team IT di Hillary Clinton ha deciso di fare una cosa, ovvero riferirsi ad un programma che effettivamente cancella la maggior parte delle tracce delle cose lasciate sul computer, ma come dice anche il fondatore stesso l'unico vero modo per distruggere una memoria è distruggere la memoria, cioè nel senso massacrarla oppure darla in mano a un bambino. C'è anche questa opzione sul sito. Ce l'hanno quei bambini? Ad ogni modo, la quasi presidentessa americana Hillary Clinton ha utilizzato Bleachbit. Bleachbit è un programma open source gratuito, un po' più rudimentale, ma comunque molto funzionale, alternativo a quel programmino che vi piace tanto che è SeaCleaner. Questo è un programma decisamente più pulito, con più cura della vostra privacy, funziona soltanto in locale e in generale molto molto carino e molto funzionale. Come dicevo è anche stato utilizzato dal team tecnico della Clinton per tentare di pulire le sue mail dal Windows Server su cui erano storate, però per il resto è un programma che potete utilizzare anche voi su Windows. Un programma molto carino aiuta appunto a pulire la cache, tutti quanti i residui che vengono lasciati dai programmi sia durante l'utilizzo che dopo la disinstallazione qualora non abbiate utilizzato un certo programma di cui vi parlo tra un attimo, sempre open source gratuito e privacy center. Comunque ad ogni modo, per quanto riguarda Bleachbit fa esattamente quello che fa SeaCleaner, pulire tutto quello che c'è sul computer, però facendolo ragazzi rispettando la vostra privacy e soprattutto rispettando il vostro computer senza possibilmente inviare dati a server a caso che poi li profilano in maniera anonima e li vendono in giro. Onestamente non mi piacciono queste cose, quindi vi do un'alternativa valida e concreta il più possibile. Ovviamente ragazzi siamo sempre su Windows, cioè... siamo su Windows... 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 In poche parole è il pulitore bello e comodo per per esempio lavori in cui vi serva di eliminare la cache di un programma in maniera completa e sicura, potete selezionare diverse opzioni come per esempio differenziare se volete eliminare o no la cache, le password, i cookies, cose così dai vostri browser, riesce ad analizzare ogni singolo programma e dividere tutte quante le parti che appunto possano essere cancellate da Bleachbit senza ovviamente dare problemi al programma, senza ovviamente cancellare parti essenziali, qui si parla soltanto di cose residue ed extra che appunto possano essere eliminate senza ledere al funzionamento esatto del programma e in generale Bleachbit raga vi lascio il link giù in descrizione, molto carino, potete utilizzarlo. E adesso arriviamo al terzo, residui vi ho detto prima, lasciati da programmi installati, un po' di tempo fa vi ho parlato di Revo Uninstaller e in qualche altro video ho accennato Geek Uninstaller, entrambi programmi molto interessanti, però personalmente a livello di interfaccia preferisco di gran lunga Geek a Revo, ma di recente sono entrato in contatto con un programma che mi avete consigliato voi appunto sotto a quel video, Bullcrap Uninstaller. Bullcrap Uninstaller è un programma che si occupa di eliminare in maniera totale tutto quello che riguarda un programma, esattamente come Revo Uninstaller e anche appunto Geek Uninstaller. Il tutto con un'interfaccia semplice, concreta, veloce al punto, senza installarvi robe di terze parti che non ve ne frega niente, toolbar, virus, malware e cose così come fanno altri programmi, non Revo e Geek Uninstaller ci tengo a dire, ma comunque in ogni caso stiamo parlando anche qui di un programma open source che funziona soltanto in locale e quindi si potrebbe definire anche questo privacy centered, cioè con la privacy al centro dell'attenzione. Serve per eliminare programmi in maniera totale, per esempio quelli lì che lasciano tanti residui per ricordarsi se avete usato o meno una prova gratuita, parlo di tutta quanta la suite Adobe, mannaggia che ha creato Adobe Creative Cloud, perché lascia una quantità di pezzi sul vostro computer veramente non indifferente, oppure semplicemente se avete dei programmi che insomma lasciano tanti residui. Decisamente con i nuovi sistemi operativi questa cosa inizia a essere un po' ininfluente anche in termini di peso, o comunque di impatto sulle prestazioni finali del computer, ma per il resto può essere una soluzione che magari può tornare pratica per molti. Infine ragazzi arriviamo al quarto programma che fa una cosa molto semplice, fa una cosa veramente semplicissima che in realtà Windows fa ma in maniera meno elaborata, sto parlando di light bulb. Light bulb, light bulb insomma lampadina, lo chiamerò lampadina per semplicità. Lampadina è un programma molto 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 semplice che fa una cosa semplicissima, regolare l'intensità della luce blu emessa dal monitor nel corso della giornata. Ora voi mi direte ma lo fa già Windows? In realtà lo fa in un'altra maniera. Voi a Windows potete dire in base alla vostra geolocalizzazione più o meno quando sarà il tramonto e quando sarà l'alba e lui in un orario esatto, in un minuto specifico, appena partirà quel minuto, lui andrà a impostare appunto tutto quanto il profilo contro la luce blu. Come funziona invece lampadina? Semplicemente prende di riferimento la vostra zona geografica, li potete mettere anche una roba generica non specifica, cioè se abitate non lo so a Gallarate, gli mettete Milano e non cambia niente. Comunque ad ogni modo dalla vostra posizione geografica approssimativa, non dovete mettergli dati concreti, potete anche non mettere la posizione geografica. Ad ogni modo calcola quando sarà il tramonto e quando sarà all'alba e non va a utilizzare un minuto come il secondo in cui inserire l'antiluce blu, la luce notturna insomma, come per esempio fa anche Flax o appunto Windows stessa, ma fa una cosa progressiva andando a inserire questo profilo fino alla totale accensione, al 100% della copertura del filtro antiluce blu, semplicemente in maniera progressiva, andando quindi anche a non essere troppo invasiva istantaneamente dandovi quel subito tutto in faccia di luce gialla brutta e cose così, no, vi fa adattare gli occhi e vi permette pian piano di apprezzarla in maniera meno aggressiva, molto più moderata. Si autoimposta, potete anche dirgli se ridurre un po' la luminosità e cose del genere, però in generale è un programmino semplice ma molto utile a mio dire. Ad ogni modo questi erano 4 più 1 programmi per quanto riguarda l'ambito open source, privacy, cose utili per Windows, spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare i vostri programmi preferiti giù nei commenti per farmi sapere se magari non c'è qualcosina che vi possa parlare in un nuovo episodio, noi ci vediamo al prossimo video, voi state su More Than Tech, Salamusa!